In Sardegna, quasi un quinto delle imprese artigiane, il 19% è direttamente o indirettamente legato al mercato turistico regionale. Un settore che include oltre 6.500 piccole e medie imprese che spaziano dall'agroalimentare ai servizi turistici, cura della persona, attività culturali, intrattenimento, ristorazione, trasporti, gestione di strutture ricettive e sportive, fino alla produzione e vendita di monili e artigianato artistico. Complessivamente, queste aziende impiegano oltre 16.000 addetti. I dati emergono da un'analisi di Confartigianato Sardegna. L'incremento dell'interesse verso le vacanze ha portato ad una crescita della percentuale di imprese impegnate in questo settore, passando dal 17 nel 2013 al 19 nel 2024, superando la media nazionale del 16% e posizionandosi al sesto posto dopo regioni come Sicilia e Toscana. Nonostante i buoni risultati, emerge una leggera diminuzione delle assunzioni previste per l'estate 2024, con un calo del 3,9% rispetto all'anno precedente. Le imprese sarde che lavorano nel turismo sono una grande risorsa per l'economia della Sardegna. La politica per questo deve sempre di più mettere al centro della propria agenda questi due tessuti produttivi. I numeri continuano a dimostrarlo, come artigianato e turismo sono complementari. È fondamentale per la nostra crescita, anche imprenditoriale, che debbano essere promossi e venduti insieme. Dobbiamo impegnarci per la crescita sempre di più, continuando a investire in promozione, cultura e servizi.